Capitolo 27 «Tu e Cam trascorrete molto tempo assieme», disse mia madre, guardandomi da dietro il giornale. «Non direi», risposi, anche se era vero. Alla casa al mare i giorni passavano in un soffio. Non ti accorgevi dello scorrere del tempo. Prima che me ne rendessi conto, Cam e io ci frequentavamo già da due settimane. Era diventato una specie di fidanzato. Avevamo trascorso assieme praticamente tutti i giorni. Non sapevo cosa avessi fatto prima di incontrarlo. La mia vita doveva essere stata noiosissima. Mia madre proseguì. «Quà sentiamo la tua mancanza». Se lo avesse detto Susanna, ne sarei rimasta allusingata, ma detto da mia madre, mi diede fastidio. Mi sembrò una recriminazione. E poi non è che loro stessero parecchio a casa. Erano sempre in giro a fare cose, loro due da sole. «Belli, ti va di invitare il tuo ragazzo a cena domani sera?» mi chiese con dolcezza Susanna. Avrei voluto rispondere di no, ma per me era impossibile dire di no a Susanna, specialmente adesso che stava affrontando il divorzio. Non potevo dire di no. Perciò risposi «Mmm, può darsi?» «Ti prego, tesoro, mi farebbe molto piacere conoscerlo». C'è detti. «D'accordo, glielo chiederò, però non posso prometterti che non abbia già altri impegni». Susanna annui con aria serena. «A me basta che tu glielo chieda». Sfortunatamente per me, Cam non aveva impegni. Cucinò Susanna. Preparò del tofu saltato in padella, perché Cam era vegetariano. Ancora una volta, quello era un aspetto di lui che ammiravo. Ma quando vedi l'occhiata che mi lanciò Jeremiah, mi sentii un po' a disagio. Quella sera Jeremiah cucinò degli hamburger. Trovava qualsiasi scusa per accendere la griglia, proprio come suo papà. Mi domandò se ne volessi uno anch'io, e io risposi di no, anche se in realtà lo avrei voluto. Conrad aveva già cenato ed era al piano di sopra a suonare la chitarra. Non si era neppure preso il disturbo di mangiare con noi. Quando scese a prendere una bottiglia d'acqua, non si degnò neppure di salutare Cam. «Perché non mangi la carne, Cam?» chiese Jeremiah, infilandosi metà del hamburger in bocca. «Perché sono moralmente contrario al cibarsi di animali». Jeremiah annui gravemente. «Belli però la mangia. Le permetti di baciarti con quelle labbra?» Poi si sbellicò dalle risate. Susanna e mia madre si scambiarono un'occhiata d'intesa. Mi sentii avvampare. Solo in quel momento mi resi conto di quanto Cam fosse teso. «Taci, Jeremiah». Cam lanciò un'occhiata a mia madre e rise in maniera impacciata. «Io non giudico le persone che scelgono di mangiare la carne. È una scelta personale». Jeremiah proseguì. «Dunque non ti dà fastidio che le sue labbra tocchino un animale morto e poi le tue labbra?» Susanna ridacchiò e disse «G Jeremiah, dà un po' di tregua a questo ragazzo». «Sì, Jeremiah, dagli tregua», aggiunsi io, fulminandolo con lo sguardo. Poi gli rifilai un calcio sotto al tavolo, forte, abbastanza forte da farlo trasalire. «No, non c'è problema», disse Cam. «Non mi dà nessun fastidio, anzi». Poi mi tirò a sé e mi baciò brevemente di fronte a tutti. Fu solo un bacetto, ma fu ugualmente imbarazzante. «Per carità, non baciare belli a tavola», esclamò Jeremiah, fingendo di vomitare. «Mi fate venire la nausea». Mia madre scosse il capo in direzione di Jeremiah e disse «Belli ha il permesso di baciarsi». Poi puntò la forchetta verso Cam. «Niente di più, però». Scoppiò a ridere, come fosse la cosa più divertente che avesse mai detto, mentre Susanna trattenne un sorriso e le ordinò di fare silenzio. «Io avrei voluto uccidere mia madre e poi suicidarmi». «Mamma, ti prego, non sei divertente», dissi. «A mamma niente più vino». Mi rifiutai di guardare Jeremiah e tanto meno Cam. In realtà io e Cam non c'eravamo spinti molto oltre il bacio. Lui sembrava non avere fretta. Era cauto con me, dolce, perfino nervoso. Era totalmente diverso dal modo in cui vedevo comportarsi gli altri maschi con le ragazze. L'estate scorsa avevo beccato Jeremiah con una ragazza sulla spiaggia, giusto fuori da casa. Sembrava che avessero appena fatto sesso. Io gli feci patire le pene dell'inferno per il resto dell'estate per questo, ma lui sembrò fregarsene. Speravo che Cam prendesse la cosa con più serietà. «Belli, sto scherzando. Lo sai che io sono aperta al fatto che tu esplori te stessa», continuò mia madre bevendo un lungo sorso di chardonnay. Jeremiah scoppiò a ridere. Io mi alzai e dissi «ora basta, io e Cam andiamo a cenare nel portico». Afferrai il mio piatto e aspettai che mi seguisse, ma non lo fece. «Belli, rilassati, stanno solo facendo gli spiritosi», mi disse, sollevando con la forchetta un po' di riso e del cavolo cinese per infilarseli in bocca. «Sei proprio bravo a tenerla a bada, Cam», disse Jeremiah. Pareva davvero colpito. Tornai a sedermi, anche se mi scocciava a farlo. Odiavo perdere la faccia di fronte a tutti, ma se fossi uscita per conto mio, nessuno mi avrebbe seguita. Sarei tornata a essere la piccola Belli, sempre imbronciata. Quando ero piccola, Steven mi chiamava Musolungo e si riteneva un genio per aver inventato quel soprannome. «Nessuno mi tiene a bada, men che meno Cam Cameron». A quel punto tutti fischiarono e risero, perfino Cam, e tutto d'un tratto ebbi l'impressione che ci fosse un'atmosfera normale e che Cam vi si inserisse alla perfezione. Cominciai a rilassarmi. Sarebbe andato tutto bene. In effetti fu una serata grandiosa, proprio come mi aveva promesso Susanna. Dopo cena Cam e io facemmo una passeggiata in spiaggia. Per me non c'era, non c'è niente di meglio di una passeggiata notturna in spiaggia. Hai l'impressione di poter camminare all'infinito, come se l'intera notte e il mare ti appartenessero. Quando cammini in spiaggia di notte, puoi dire cose che non diresti nella vita reale. Nell'oscurità riesci a sentirti più vicina alle persone. Puoi dire tutto ciò che vuoi. «Sono felicissima che tu sia venuto», confidai a Cam. Lui mi prese la mano e rispose «anch'io. Sono felice che tu lo sia». «Certo che sono felice». Gli lasciai la mano per arrotolare il fondo dei jeans e lui aggiunse con tono sommesso «Non mi parevi così felice». «E invece lo sono». Sollevai lo sguardo verso di lui e gli diedi un breve bacio. «Vedi, sono felice». Lui sorrise e riprendemmo a camminare. «Bene. Ora dimmi, a quale di quei due ragazzi hai dato il tuo primo bacio?» «Te l'ho raccontato». «Eh sì, mi hai detto che il tuo primo bacio è stato con un ragazzo del mare quando avevi tredici anni». «Oh». Guardai il suo viso sotto al chiaro di luna e vedi che sorrideva ancora. «Indovina». Subito rispose «Il maggiore Conrad». «Perché?» Si strinse nelle spalle. «È solo una sensazione dal modo in cui ti guarda». «Ma se mi guarda a malapena», replica io. «E poi ti sbagli, Sextus è stato con Zeremaia».» Grazie a tutti